Siamo contenti e ringraziamo le due consigliere che hanno colto il grido d'angoscia dei bambini costretti uno di qua, un plesso di qua e un plesso di là a camminare in mezzo all'immondizia e a vedere l'immondizia dalle loro aule e quindi ci fa piacere che questo sia avvenuto. Però il portare a termine questo progetto ci sembra veramente un'assurdità. Intanto stanno costruendo muretti e non c'è nessun accenno di fare la bonifica. Bonifica che è prevista dalla legge del 3 aprile 2006 e che prevede che per ogni spazio pubblico è obbligatorio procedere a una verifica e a una bonifica. Cosa che qui, che stanno già mettendo i muretti, ci sono già i mattoncini di cemento pronti per tombare tutto. non ci pare proprio. E allora noi ci stiamo preparando ad avere le giostrine messe su un terreno tossico. Intanto il progetto che il Comune ci ha inviato come consulta parla di un parcheggio per le scuole. Ebbene, chi conosce le scuole sa che all'interno hanno parcheggi molto più ampi di quello che possono servire. E le stesse dirigenti hanno dichiarato che non hanno chiesto questo parcheggio. Hanno invece chiesto un passaggio perché i due plessi sono soggetti ad essere messi in comunicazione per bambini e adulti che vanno da un posto all'altro. Invece il vostro progetto come associazione Università Verde a Torre del Greco, che cosa prevede per questa zona? È uno spazio abbastanza ampio considerando la fame di spazio che c'è a Torre del Greco. Una nostra socia, l'architetta Pinto, era riuscita a mettere in questo spazio una zona per bambini, una zona fitness, un orto sociale, dei camminamenti, ma soprattutto alberi. Voi mi direte, su uno spazio non bonificato, dove ci sono stati prima per anni le baracche dei terremotati e per decenni cumuli di immondizia raccolti molto molto raramente, quindi con i liquiami che hanno fatto per colazioni. Vi domando, seppure metteranno degli alberi, che fine faranno questi alberi? Metteranno invece dei mattoncini di cemento, quei dai quali si sa già che attraverso le fessure comunque crescerà l'erba. Poi metteranno degli attrezzi ginnici da palestra sul cemento, dove sotto non è stato bonificato. Dal 2016 noi abbiamo preso in carico come associazione questa zona. Inizialmente non potevamo far altro che chiedere al comune di rimuovere tanta immondizia da sotto il naso e gli occhi dei bambini, dei loro genitori e dei loro insegnanti. E in seguito poi abbiamo anche fatto un progetto per far capire come in una zona come Torre del Greco, dove non c'è spazio, soprattutto in questo quartiere, dove non c'è nessuna possibilità di passeggiare, neanche sui marciapiedi, si potesse invece realizzare tutta una serie di cose. Abbiamo mandato anche al comune, mai avuto una sola risposta. L'unica risposta che ci davano era ma questi sono sogni, noi stiamo nella realtà. La realtà qual è? Che vogliono mettere un paccheggio? Che non servirà certamente alle scuole?